la moto elettrica perchè si spegne sempre? perchè cala di giri e poi si spegne e ma devi tirare la frizione senza frizione senza frizione e allora si spegne occhio occhio la moto elettrica la moto elettrica vuole la moto elettrica vuole la moto elettrica perchè non c'ha la frizione vuole la moto elettrica così non deve usare la frizione bravo bravo i e e una un 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 Vuole la moto elettrica per non tirare la frizione, tanto non la tira lo stesso. Grazie per la visione!